C'è gente di Alessandro Di Palantonio, a che punto siamo? Mi ho fatto una chiacchierata con il direttore, credo che non dovrebbero esserci problemi, siamo un po' distanti però credo che una soluzione la troveremo sicuramente. La volontà è quella di restare, quindi è la volontà di tutti, speriamo, di trovare un accordo, non penso ci saranno problemi. Con il direttore di Somma avete chiacchierato di altri giocatori? Sì, abbiamo fatto una chiacchierata così su altri profili, però adesso diciamo che la priorità era quella di sistemare la situazione di Alessandro, che è fortemente richiesto dal mister e da tutti, penso, quindi ci siamo, dai. Speriamo che nei prossimi giorni saranno novità positive e sistemiamo tutto. No, ma non è un discorso economico, perché sennò sembra che stiamo facendo il mercato, non è, cioè il mercato, la fiera, non è quello, è il ragazzo a tutta la volontà, però chiaramente avendo ricevuto anche altri tipi di proposte importanti, è anche giusto che io debba fare i suoi interessi, cerchiamo di venirci incontro e penso che non ci saranno problemi. Abbiamo parlato anche di altri profili, però diciamo che la priorità adesso è su di lui, quindi sugli altri poi nei prossimi giorni valuteremo il da farsi. Seliak? Seliak è uno di questi, ne stiamo parlando, vediamo. Il mio pensiero è questo, io credo che comunque se si hanno le capacità si riesce comunque a costruire una squadra importante, con qualche conoscenza, qualche contatto, perché chiaramente sul mercato c'è anche bisogno della disponibilità economica, se no si fa difficile su alcuni tipi di giocatori, esempio sull'attaccante, su altri profili. Però credo che il direttore è una persona esperta e riuscirà sicuramente a formare un gruppo e una squadra che farà divertire i tifosi.